E' una grande soddisfazione perché comunque era già nei nostri progetti e finalmente ci siamo riusciti a realizzarlo. A Vallo proporrete sicuramente un'esperienza ultraventennale? Eh sì, certo. Comunque noi siamo da più di vent'anni sul territorio occidentano, quindi venire anche qui a Vallo della Lucania è una grande soddisfazione per noi. Ecco, immaginavi tutto questo vent'anni fa, Beate? Eh, Dio mio no. Siamo partiti proprio, come si dice, piccoli piccoli e poi mano a mano stiamo cercando di crescere. Siamo all'avanguardia, penso di, come pure tutti i ragazzi hanno la possibilità di gareggiare a livello internazionale, quindi gli possiamo offrire tutto quello che vogliono. Oltre alla scuola c'è anche la prospettività di crescita? Certo, noi prepariamo anche per i ragazzi a conseguire il diploma di maestro di ballo, dopo aver studiato, si fa l'esame, diventeranno anche loro maestri di ballo. Ma è tanto impegno, tanto sacrificio, però i risultati arrivano. Sì, arrivano, arrivano. Siamo soddisfattissimi anche degli allievi che abbiamo già da un bel po' di anni, quindi già ci sono bei risultati, veramente siamo contenti. La soddisfazione più grande di cui ci puoi parlare è raggiunta negli ultimi venti anni? Va bene, le soddisfazioni più grandi sono tanti, perché poi c'è la soddisfazione dei figli, perché comunque sono tutte e due maestri, mia figlia è terza al mondo con le danze standard e poi con gli allievi, gli allievi cambioni italiani, cambioni interregionali, cambioni regionali, veramente grandi soddisfazioni. Allora, con questi occhioni azzurri, con questo bel sorriso, vi invito i nostri telespettatori a venire a vedervi, anche così, solo per curiosare, naturalmente. Ecco, vi invito tutti a venirci a trovare, giustamente anche per qualche lezione gratuita, per vedere, una lezione dimostrativa. E poi ci saranno tante serate da poter imparare a ballare e divertirci insieme. Ma dopo questo giorno, domani già si inizia o già questa sera? Sì, veramente, anche già da questa sera ci sarà la lezione di Zumba e poi logicamente inizieremo da domani con tutti quanti i corsi. Ecco, lo diceva papà, non ci sono limiti di età, eh? No, no, nel ballo non c'è nessun limite. Si parte dai più piccoli, dai tre anni, fino ad arrivare... Abbiamo ballerini anche di 70 anni, quindi ce n'è per tutti quanti.